Il Giudice 0502 2002 E solo allora mi resi conto che anche i maestri non avevano un corpo Eravamo quattro teste immerse nell'universo Non capivo cosa volesse dire giudice Ma qualunque cosa fosse mi rifiutai di accettare l'offerta Sapevo che potevo rifiutare l'offerta Mi sono staccato dal gruppo di teste per vedere la scena dall'alto Potevo vedere me ed i maestri E potevo anche sentire quello che dicevano Volavo sopra loro tranquillamente E capivo che i maestri cercavano di far accettare l'offerta A quello che dovevo essere io Se non fosse che io ero sopra di loro E osservavo la scena A questo punto fui risucchiato nella testa E stavo dicendo Che non mi sentivo all'altezza di usare il mio giudizio Con il potere decisionale del giudice Usarono molti strattagenni per convincermi E ad ogni motivazione io ponevo un rifiuto motivato Si spinsero ad utilizzare promesse da marinaio Pur di raggiungere lo scopo Ad un certo punto Entrai dentro di me Come se cercassi qualcosa che non sapevo ci fosse Vidi un universo Il mio universo Quello ero io Era una sfera pulsante di vita Composta da miriade di sfere pulsanti Che si compenetravano l'una con le altre Ogni sfera aveva la propria caratteristica Erano le mie anime Mi resi conto Che io possedevo la loro conoscenza per via diretta Ogni volta che entravo in ognuna di loro Era come qui sulla terra Potevano anche essere il risultato Delle mie incarnazioni precedenti Cioè il livello di coscienza Raggiunto attraverso quell'esperienza Ero molto soddisfatto di me Non credevo di essere così sapiente Tornai alla realtà Trovando i tre maestri che continuavano a parlare Mi resi conto che stavano parlando seriamente Loro dovevano sapere delle cose che io ancora non so Mi sembrò logico Visto che erano loro i miei maestri Ebbi paura di tanta responsabilità Un'energia fece vibrare tutto il mio corpo E stavo per ritornare nel fisico Quando fui nuovamente risucchiato nell'altra dimensione Sette colori Sette note Sette comandamenti E sette saggi Stavano proprio lì Davanti a me Mi invitarono a stringer loro la mano E così feci Li conoscevo tutti Erano stati i miei maestri In un'altra dimensione Scoprì così Che senza averne coscienza Potevo ritenermi capace Di valutare e intervenire E' per questo motivo che sei stato eletto giudice Questa volta l'energia fu troppo forte E mi ritrovai a vibrare svegliandomi nel corpo fisico Ancora per qualche minuto Prima che cessasse Grazie Io Si Grazie Grazie